Ciao a tutti ragazzi, sono GastsBuster e benvenuti in un nuovo video. Oggi sono in un server giapponese. L'ho trovato grazie all'ispirazione datami da quella community raid, e volevo trovare un altro server giapponese, visto che in quello erano così ingenui. E ho trovato questo. Quando sono entrato, mi sono accorto che c'era BookKit, e quindi pensavo che ci fosse qualche plugin, come quello dei log che ci sono su tanti server, le protezioni per il griefing. Invece, no. O almeno dopo che ho combinato quello che ho combinato io, non hanno fatto niente. Ovviamente bisogna stare attenti a non farsi vedere, ma sono molto stupidi, e io ho agito, non quando il server era pieno, anzi, c'era abbastanza gente. Comunque qua ci sono molte costruzioni. Alcune sono protette con Wordedit e Wordguard. Ma molte sono senza protezione soprattutto le casse, andando in giro, in questo server, si può trovare tantissima roba. Trovi il ferro e il diamante nelle chest, senza che nessuno protegga alcuna chest. Trovi il ferro e il diamante. Come vedete qua in giro, si può facilmente reperire i materiali, è cosa utile, va alla FlyMod, si può volare liberamente in questo server, e non mi hanno mai detto niente. Adesso volevo riempire il tetto con un po' d'acqua così che sembrasse più bello. E all'interno poi penserò dopo. L'unica cosa è che non vanno gli acciarini, hanno disabilitato lo spargimento, o come diavolo si dice, di fuoco. Peccato, perché questa costruzione di legno, bruciava benissimo. Vabbè. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti